Mi chiamo Claudia, lavoro all'agenzia esecutiva di Bruxelles che gestisce la messa in opera dell'azione Erasmus Mundus Join Master Degrees, titoli congiunti di Master Erasmus Mundus. In occasione di questa giornata di presentazione del programma tutto intero Erasmus Plus ho avuto l'occasione di fare una presentazione e di dare qualche suggerimento ai potenziali beneficiari che potrebbero presentare la loro domanda per la scadenza di febbraio di questa Call for Proposals. I suggerimenti che ho dato sono per prima cosa di fare riferimento a tutti i nostri documenti. L'agenzia si è molto impegnata nel rendere più accessibili i documenti diciamo più formali della Call aggiungendo presentazioni PowerPoint su come scrivere una buona application, aggiungendo e-tutorials che sono video fatti apposta per aiutare e sostenere chi intende presentare una domanda. L'Italia presenta molti progetti ma il tasso di successo potrebbe migliorare. Quindi spero per prima cosa che i nostri colleghi italiani seguano il mio consiglio e si facciano aiutare da tutti gli strumenti che noi abbiamo creato. Certo non basta questo, ci vuole la motivazione, ci vuole una forte cooperazione internazionale e almeno dei legami che siano tali per cui un progetto possa essere messo in pista. Il tasso di successo però è abbastanza alto in generale, finanziamo un progetto su quattro e quindi dato che anche il budget è abbastanza consistente potrebbe essere interessante per le università finalmente aprirsi all'Europa e aiutare con la loro attività a migliorare l'attrattività dello spazio europeo dell'educazione superiore. Tutto questo tenendo ovviamente d'occhio gli studenti che sono i primi beneficiari di questi progetti e che sono i soggetti a cui, come dicono loro, cambiamo la vita con i nostri progetti e che saranno coloro che costruiranno l'Europa del futuro.